Innanzitutto c'è una forte preoccupazione per la transizione dove non si stanno investendo le risorse che si dovrebbero investire. Tra l'altro l'invasione della Cina che ci sta attaccando e aggredendo sull'elettrico in particolar modo e bisogna fare fronte comune in Europa, la politica deve ritornare a fare quello fronte comune perché se ognuno si guarda il suo orto alla fine l'onda travolgerà tutti. Il tessuto industriale del Terramano lo denunciamo noi dal 2017, poi è subentrato Stellantis e sono circa 75.000 lavoratori a rischio in tutta la nazione e di cui 2.000 sono nel Terramano. Nella provincia di Terramo 2.000 persone di un indotto come quello dell'automotive è un settore abbastanza importante, su questo stiamo richiamando la politica, non solo quella provinciale dove sfoceremo un grande sciopero di settore il 18 ottobre a Roma per svegliare il governo sulla questione dell'automotive. Grazie.